La Chiesa del Crucifisso è forse uno dei luoghi che ha maggiormente identità storica di Salerno e partita questa iniziativa l'anno prossimo sarà la Quinta, la Via Crucis. Lo scopo è quello di dare proprio questa opportunità di fare riferimento a questa Chiesa anche dal punto di vista della tradizione che nel mese di marzo e ogni venerdì vedeva afflusso di tante persone. La stessa fiera si svolgeva qui, in questa zona, la Fiera del Crucifisso. E quindi sul piano spirituale è un modo per richiamare anche quelle che restano nelle proprie abitazioni magari. Dice Don Giovanni, è soprattutto anche un modo per farvi incontrare e per continuare un cammino al di là di quello della Via Crucis? Beh, certo, sicuramente. È una parte in cui tutti quanti noi ci impegniamo individualmente in questo percorso che abbiamo tutto l'anno di preghiere, incontri di preghiera che facciamo il fine settimana. C'è anche un momento spirituale forte al di là di quello della rappresentazione del venerdì? Certo, oltre alla rappresentazione d'ammatica che vuole essere la visibilità per tutti della Passione di Cristo, sicuramente la drammatizzazione deve essere intesa soprattutto come una preghiera a cielo aperto, una preghiera per tutti e con tutti. Per questo ogni stazione è stata accompagnata da una serie di riflessioni tratte dagli scritti di Santi, di Sacerdoti, ma soprattutto quindi dalle meditazioni di Papa Francesco. La Via Cruce è ricordare proprio la passione del nostro Signore Gesù Cristo e vivere nella nostra vita anche la sua passione, nei momenti di difficoltà, momenti di scoraggiamento che non rimane lì perché comunque poi Gesù risorge anche nella nostra vita. Il Papa ieri questo ci ha sottolineato che la Croce di Gesù deve essere sempre il nostro sostegno in ogni momento della nostra vita. Lo dice anche che è una testimonianza di fede, una testimonianza di amore cristiana per tutti, per ogni angolo della terra la Croce di Cristo deve essere sempre il sostegno della nostra vita. Uno buono l'altro cattivo, tu il buono, quello che alla fine insomma si converte. Sì, si salva, diciamo, arriva anche nel regno di Dio. Tu invece la parte peggiore. Sì, io ho fatto, proprio ci tenevo a fare la parte peggiore perché non ho fatto solo Giuda, ho fatto anche Barabba dopo, quindi mi sono tra virgolette messo a fare il cattivo di turno. Però Giuda alla fine in realtà è un personaggio piuttosto importante. Ma poi cambierete, no? No, no, poi alla fine Giuda in realtà anche all'interno della Via Crucis capisce di aver sbagliato, poi preferisce il suicidio al perdono, però è un altro discorso. Però alla fine capisce di aver sbagliato, questo sì. L'anno prossimo parte invertite? Non lo sappiamo ancora. Dovremo provare di nuovo per, diciamo, abituarci a nuovi personaggi, adattarci a nuove... però questo ruolo di cattivi ci piace.